8.000 di ante! Ante! Cure! E' più di! Ehi, ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci vediamo nuovamente qui su Joe Stickman Epic! Nello scorso episodio abbiamo finito quasi tutti i livelli, ci mancava l'ultimo livello per salvare il nostro amico Ruggero. Quindi, non perdiamoci in chiacchiere, Zorp di merda di in culo! Forse! Non lo so se ti in culo! Forse in culi tu me, ma vabbè! Facciamo un po' con l'uno, ok? Perfetto, guardiamo un pochettino il livello. Ho la porta! Oh, si apri... No, qui c'è il segno del fulmine, qui c'è. Eh, non mi fotti, qui c'è il segno del fulmine, non mi fotti. Non mi freghi! Oh, ci sono le mine! Oh, ci sono le mine... Come ci sono le mine? Aspetta, se faccio il fulmine, che succede? Se faccio il fuoco... Allora, forse devo camminare nel... C'è l'esproso! Prova a correre la prossima volta! Come prova a correre? Come prova a correre? C'è vino! Come prova a correre? Allora, intanto facciamo il fulmine qua. Come si può dire? Un fulmine c'è sereno. Come cazzo... Come faccio a correre? Hai cannato! Ma non fumo! Oh! Signorina! Comincia dei problemi! Non capisco un cazzo! Questo è un numero problema... Aspetta, io provo a correre... Fai più attenzione alla prossima volta... Signorina, sei baccato il gioco! Signorina, non lo finisco mai! Signorina, dov'è? Che devo fare? Io vado qua, scusate! Oh, sono dentro il castello! Ok! E mo? Ruggiero! Ruggiero! Bastardi, bastardi! Il mio Ruggiero! Dov'è? Ti salvo io! Ruggiero! Ruggiero! Mi hai chiuso in gabbia! Non credevi che sarebbe stato così facile, vero? Beh, in effetti, c'hai pure tu un po' ragione! Ho rapito il tuo amico solo per tirarti qui! Brutto figlio di una merda! Ora ti distruggerò e tutte le tue matite saranno mie! No! No! È mia la matita! No! Ma a me mi rimane la matita! Che stai disegnando? Che stai disegnando? Oh! Oh! Cos'è? Che cazzo stai facendo? Cazzo! Cos'è sta roba? Ruggiero! Tranquillo! Ti salvo io, Ruggiero! Aspetta, ma se realmente mi faccio un'ascia? No, no! Pia l'ascia! Beh, magari, che ne so, la eliminiamo sta roba? Che sta disegnando? Non prendere! Non ho fatto la chiave troppo grossa! Aspetta, devo prendere il fuoco, forse? Non capisco! Oh, devo accendere! Aspetta! Che devo fare? Signorina, non capisco! Signorina! Che succede? Muo, moriamo! Ruggiero! Ruggiero! Diamo fuoco a tutto! Diamo fuoco! Che cazzo è sta roba? Che sta disegnando? Aiuto! Che sta disegnando? Il mondo... L'uomo... Com'è che sta disegnando? Aiuto! Ah! Disegnando l'uomo spina! L'uomo spina! No, scusami, no! Indietro! Indietro! No, no, no! Proprio indietro! Che devo fare? Sono incastrato! Aiuto! 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 Aspetta, la faccio così? No! La faccio così? Oh, ma due ore per disegnare! Eh, no! Non posso! Non posso! Oh, porca cazzo! Che cazzo devo fare? No, disegno un ascia! No, scusami! Facciamo qua! Raga, non sto capendo! Ma chi è veramente sbloccato meticoloso? Ma io sto sbloccando tutta la peggio merda! Signorina, però qua io muoio! Signorina, aiuto! 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 Signorina, qua sta disegnando qua l'uomo spinato! Qua sta disegnando... Oh, non to' sta pane! Non to' sta pane! What's up! Non capisco! Non capisco! Aiuto! L'ha quasi finito di disegnare! Sì, vabbè, ma che devo fare nell'attesa? Signorina, aiuto! Forse devo fare esplodere questa? Mi sono salvato! NAPI! No, Ruggero! 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 Aspetta un attimo! Aspetta! Ti salvo io, Ruggi! Oh, che cazzo è quella roba? Aspetta! No, no, no! Che chiave! Che chiave veloce! Minchia, io ho perso due ore di tempo a fare il cazzone, però è... Non la... Oh, questa non è una bella roba, eh! Aspetta, facciamo tutte le cose... No, no, no! Aiuto, aiuto, aiuto! Or cazzo! Ho trovato il drago! Ho trovato il drago! Ho trovato il drago! Oh! Oh! Attiva sta roba! Veloce! Aiuto, attiva sta roba! Aiuto, aiuto! Aiuto! Che cazzo... Cioè, quindi mi stai dicendo che... No, no, no! Sta finendo! Sta finendo! Bastardo di merda! Bastardo... Ti picchio! Ti picchio! Ti picchio! Drago di merda! Levati dalle palle! Non vedi che devo da fare! Venalo! Venalo! Aiuto! Aiuto! Siamo nella merda! Siamo proprio nella merda! Perfetto! Siamo nella merda! Allora, ok! Allora, stavolta... Stavolta, tranquillo amico mio! Ti salvo io! Però ti salvo a modo mio stavolta, eh! Ma cacchio! Aspetta, posso accendere queste torce? Oh, sì, la posso accendere? Ah! Amico! Ti salvo io! Sì, però appena ti salvo qua mi rinchiude in gabbia! E infatti, ecco, appunto! Allora, aspetta un attimo, facciamo... Non credevi che sarebbe stato... Sì, vabbè, ma stavolta lo so, eh! Hai visto? Mi sono già liberato! Ah! Oh, che stai facendo? No, le api! Le api! E mo? Scusa, ti posso picchiare? Ah, vabbè, sì! Tu cominci a disegnare senza fretta! Tanto alla fine non siamo qui alle carre barbietole con i talallucci, no? Allora! Allora, io teoricamente basta che sto attento a quello che rompo e teoricamente... Ok, ci sta il tostapane! Allora, io romperei di rompere tipo qua e qua non c'era nulla! Guarda qua come muoio! C'è il tappeto del re! Ok, 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 ok! Sì, vabbè, ma come lo raggiungo, eh! Un altro tostapane! What the fuck! Oddio, Gela! Gela! Giulino! Oddio, Gela! Maria! Aspetta, prendi la chiave! E mo? No, aspetta, no, lo devo riattivare! Allora, volendo il tempo lo avrei, eh! Allora, no, di qui esce mi pare il drago, eh! Porca cazzozza! Ce la devo fare, porca cazzozza! Queste cose di merda sono... Mamma mia, giuro, le distruggo tutte! Aspetta che mi sto rompendo il cazzo, eh! Ecco, ci siamo calmini, non facciamo puttanate! Ecco, ci siamo calmini, non facciamo cazzate! Allora, veloce, l'attiva qua! La porca cazzozza! Ok, veloce, 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 veloce! E mo? Oh! Alzati! Oh! Come? Perché non si alza? Pensavo di avercelo fatta! Oh, suca! Ma che devo fare? Aspetta, proviamo ad accendere qui il fuoco Aiuto, aiuto! Ok, sta piavando tutto fuoco, signorina, piavando tutto fuoco! Non deve piovere, non deve piovere, veloce, ho poco tempo! Dai, ho poco tempo, veloce! Cazzo c'è qua? Non c'è un cazzo! Cazzo c'è qua? Ci sta il drago! Come facciamo a scendere ora che ci penso? Questo è un bello problema, però, eh! Questo è un bel problema, eh! Ma aspetta, no, drago di merda! Oh, drago di merda, eh! Oh, ci sono i fiori! I fiori! Aspetta! Un crescio di fiori, aiuto! Ci va perché fa vinculate, però, eh! Ok, loro si stanno in merda! Eh, ma io non capisco, eh! Come scendo? Signorina, non ho capito! Non ho capito, aiuto! Se io accendo qua il fuoco qua, che succede? Questo è un bel problema, signorina! Sto morendo, sto morendo! Aiuto! Aiuto! Abbastanza di fiori, non ho capito! Yes! Non è abbastanza veloci, Stickman! Che cazzo devo fare? Non è facile sto livello, eh! Cioè, parliamone, eh! Cioè, non è per niente facile! Ma hanno un cazzo proprio non è facile, eh! Eh, sì! Va bene, va bene! Ok, sì, sì! Sì! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Sei intelligentissimo! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Vattene, ah, 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 ah! Allora. Facciamo qua tutti i fulmini, tutti i fulmini, fulmini, fulmini! Aspetta, riempiamo di fulmini tutto, tanto alla fine, qua. Ok. Perfetto, vi levate? Ok, perfetto, grazie. Ecco tu, non per il cazzo. Perfetto, io direi che è possibile fare pure così. Perfetto, allora. Allora. Qua, da quanto abbiamo potuto constatare, si può fare pure così. Ok, funziona? Funziona. Oh, yes, motherfucker! Mamma mia, mamma mia, raga, mamma mia. Ok, facciamo così, perfetto. Dai, levati, dai, signorino, fretta! Ok. Allora, aspetta un attimo, signorino. No, 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 devi, devi fare la scossa. La scossa. Oh, eh, oh. Ma sono un coglione, allora. Ma la scossa! Ora, annaffia qua. No, no, porca cazzozza. Veloce, 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 veloce. Veloce, veloce, sì! Scendi veloce, scendi veloce, scendi veloce, scendi. Ok, incazzatevi, 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 veloce, 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 veloce. Melatevi, melatevi, melatevi. Sì! Fa' il culo. Allora, adesso devo fare... Oh, le chiavi! Libero io, Ruggero! Sì! Libero! Ruggero! Ruggero! Cos'è sta roba? No! Bastardo! Bastardo! Presto, disegno un'ascia nella mia mano! Giubito! Tieni qua, Ruggero! Vai, Ruggero! Mamma mia, grande Ruggero! Grandissimo! Vai, Ruggero! Yes! No! La mia matita nell'oscurità si è rotta! No! Senza il potere della matita oscura non potrò più dominare il mondo epico! Il mondo epico? What the fuck? Signorina, è andato via! Signorina è uscito... È uscito dal mondo! Ruggero! Aspetta, io e Ruggero abbiamo fatto un figlio? Aspetta, non ho... Questa parte non l'ho ben capita! Aspetta... Oh, 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 oh! Che ca... Cos'è quel libro? Non capisco! C'è il libro in saltella? Fine... Come fine? Cosa fine? Cosa fine? Produttori esecutivi? Clint Miles, Chris Mills, sviluppatore e direttore del progetto Phil Williams, sviluppatori Jeff... Ah, però note sono molto simili, infatti... Programmatori... Ah, se quello lì è un programmatore, complimenti! Creatore dei livelli, Annie Ashkine... Illustratori Jeff, Phil, Greg, Annie... Animatori Craig Denut, Jeff Denut, Phil Williams... Progettatori del suono... Capo collaudatore... Collaudatori! Perché ci sa... Prima il capo collaudatore, poi il collaudatore... E sti cazzi, quanti collaudatori! Mamma mia, ci sono più collaudatori che persone a fare il gioco! Ringraziamenti speciali Ruggero... Ah, ah, ah! Summary... Prodotto da... Finito? Giù! Ruggero! Da Abraci, tuo comparuzzo, compa, amica, amica... T'ha brincatito uno scappellotto perché c'è un coglione che ti sia fatto rapire così, eh! Alla ricerca di Ruggero, joystickman epic... Oh, yes! Ragazzi, abbiamo salvato il nostro amico Ruggero, basta! Cos'è il tipo 2? Cos'è sto 2? Quindi, lo scopriamo nel prossimo episodio che cos'è quel 2? Quindi, se vi è piaciuto lasciate un pollicione in su, qui sotto al video, commentate, condividete... Noi ci vedremo ad un prossimo video e... Ciao, ciao! Come? Sì! Woohoo! Sono troppo forte! Troppo forte! Oh, ci sono i tre che si inculano! No, la peppina! No, oh, oh, oh! A pe di merda! Boo! Ciao! Grazie a tutti.